Noi dovremmo lavorare di più sui sistemi di welfare e sulla responsabilizzazione dei nostri partner che al pari nostro hanno le stesse responsabilità e verso i figli e verso i loro vecchi. Non c'è una prerogativa di responsabilità femminile, non esiste. Esiste un senso di responsabilità individuale che va esercitato sia quando si è donna che quando si è uomo.